Allora, buonasera amici del Palachecco, mettete pure questo, c'è anche Stocchi, grande vittoria del Proalba Canino 3 a 0, che match avete visto ragazzi Pasqualini? Due parole sulla partita. Bene, ho fatto un gol e mi sono sentito molto bene. Oggi il Canino ha dimostrato grande prova di carattere e come hai visto la squadra, grande doppietta anche di Leonardo Nori. Stato bravo? Sì. Cosa chiedi a Babbo Natale? Nintendo Switch. Passiamo la parola a Leonardo, doppietta per lui. Che match hai visto Leonardo? Sono stato contento e mi è piaciuto tanto. A chi dedichi la doppietta di oggi? A Lorenzo e a Giordano. Ok, adesso la parola al portiere Stocchi. Un messaggio a tuo padre che oggi non c'era? Che non ci vengo più. No, no, tu padre è meglio che non vieni. Babbo è meglio che non ci vieni più. E che è stata una bella partita. Cosa chiedi a Babbo per Natale? 9 e sola. Ok. Concludiamo l'intervista. C'è pure Mirko con un forza canino. Dai ragazzi. Forza canino! Forza canino! Forza canino! Forza canino che sei fortunata. Dove è? Flaminia qui. Io mamma non mi fa più. Qua, un'intervista. Flaminia, dai. Che match hai visto oggi? Hai giocato veramente bene. Grazie. E un messaggio a tua sorella che ieri è scesa in campo. La saluti? Sì. E adesso sono il rumore. Eh? Ok, dai. Vi ringrazio e buon Natale ragazzi. Ciao!